Invece vogliamo chiedere una cosa, avete fatto per ultime, credo, vi siete allenati un po' sull'applicazione di Estra del nostro sito internet, il portale, che consente di fare varie operazioni al cliente e quindi di non muoversi da casa con molta rapidità, facilità, è una bella cosa. Ecco, lo utilizzerai da ora in avanti. Io credo di utilizzarlo, magari forse più la mia figliola di me, però insomma, però io devo ringraziare prima di tutto, Estra, che ci ha dato la possibilità di essere, diciamo, un po' infarinati nel PC e nei computer. E poi devo ringraziare sia Lucia che Valentina, che sono state veramente brave, anzi, hanno sopportato anche troppo. Credo proprio che sia stata dura, perché da un computer altro hanno passato le sue serate. Dobbiamo ringraziare Estra, tutto qua. Grazie mille. Grazie. Oh la voglia, una signora.